La liturgia domenicale ci propone il brano del Vangelo di Marco tratto dal capitolo settimo nei versetti da 31 a 37. È l'incontro del Signore Gesù con un sordo muto, una persona tagliata fuori dalla comunicazione, nell'impossibilità di sentire e di comunicare i propri pensieri. Nel leggere questa pagina di Vangelo vediamo che Gesù non impone subito le mani per operare la guarigione, ma deve sottrarre questa persona alla folla, alla confusione. Forse ci sono episodi nella nostra vita attraverso i quali noi siamo tirati fuori dalla confusione e costretti ad entrare in noi stessi. Ci sono tanti sordomuti nel mondo, tutti coloro che sono incapaci di entrare in comunicazione con gli altri e, ahimè, anche con Dio. Per guarirci Gesù ci deve portare in disparte, come ha fatto con il sordo muto. Ci porta fuori dai nostri contesti abituati, magari in sofferenze, in momenti difficili, in prove della nostra vita. In fondo ci poniamo delle domande importanti che non possiamo evitare sempre. Dove sto andando? Per chi sto vivendo? Cosa ne sto facendo della mia vita? Questi momenti, che possono anche essere frequenti, in qualcuno di noi richiedono tanto coraggio. aprirsi al Vangelo, sentirsi anche noi in questo sordomuto che viene guarito, sanato dal Signore, dal Vangelo, dalla Sua parola, è qualche cosa che ci può convertire in questa domenica. Gesù apre all'ascolto ed è il cristiano di tutti i tempi a scoprire quella parola che rivela chi è veramente l'uomo, chi è veramente e qual è il cammino che l'umanità è chiamata a percorrere. Alla fine Gesù chiederà il silenzio a questo sordomuto perché non sia ridotto a magia questa guarigione. E come Chiesa dobbiamo imparare l'arte dell'ascolto, metterci anche in silenzio davanti al Vangelo. Come missionari dobbiamo davvero proporre a tutti l'incontro con il Signore Gesù e se vogliamo portare la bellezza e anche la luce nel mondo del Vangelo, dobbiamo far sì che la parola di Dio sia sulle nostre labbra e soprattutto nelle nostre scelte. Il Vangelo sia presente nella comunità e lo sia in modo da liberare quell'uomo che tante volte non riesce a uscire da se stesso, incapace di comunicare con i fratelli, incapace di portare ai fratelli la fiducia, la fede che ha ricevuto in dono. Allora la parola di Dio possa parlare oggi in queste comunità e nelle nostre famiglie nelle quali ognuno di noi è chiamato a rendere bello e nuovo il mondo. Parlare di Dio, parlare del suo amore, questo deve essere il compito di ogni discepolo. Parlare della misericordia e avere in noi stessi espressioni e atteggiamenti di misericordia. Il mondo ha davvero fame e sete di tutto questo.